Nel 1987 è il cupido di indietro tutta, di Renzo Arbore, partecipa alle trasmissioni Fate il vostro gioco, Banane e Tirami su in onda su Rai 2 con Giobbe Covatta e Enzo Iacchetti con i quali collaborerà su, Odeon TV con Telemeno e Sportacus, di cui è anche autore insieme a Stefano Sarcinelli. Nel 1996 entra nel cast di Maidire Goll e dà vita ai personaggi di Ruggero Dell'Hollis, Robertino e il nonno virtuale a livello multimediale, che farà una breve comparsa anche in una puntata dell'edizione successiva, a fianco del prof, Fonte Cedro, che lo presenterà come suo nonno. Nel 1997 è riconfermato Maidire Goll dove inventa i personaggi di Gino Ramaglia, il pizzaiolo Puteolano Ciro, Ciairo, Boccia, il mago Spacca, Gianluco Lippi, il nipote di Claudio Lippi. È il nipote di Gagliani che imita Benny Hill, ed è protagonista nel film TV solo XT di Maria Carmela Cicinnati e Peter Exvacastos. Nel 1998 è nel cast del programma La posta del cuore ideato e condotto da Sabina Guzzanti ed inizia. La sua partecipazione come ospite è fisso a quelli che il calcio, vi rimarrà fino al 2001. Condotto da Fabio Fazio, ambedue gli show vanno in onda su Rai 2. Nel 1999 partecipa alla mini-sit comedy gratis su Rai 1. Nel 2000 conduce lo special sui 30 anni di carriera di Ron Una città per cantare condotto su Rai 2. Il 2001 si apre con la partecipazione all'ottavo nano di Serena Dandini e Corrado Guzzanti su Rai 2. E alla conduzione di Amici mie con Ron, Francesco De Gregori, Renato Zero e molti altri. Nel 2003 partecipa alla trasmissione Che Tempo che fa condotta da Fabio Fazio e all'unica puntata. Di Rai o armi di distrazione di massa di Sabina Guzzanti su Rai 3. Nel 2005 è stato il professore di spettacolo nella fiction Grandi Domani andata in onda su Italia 1, regia di Vincenzo Terracciano. Nel gennaio-febbraio 2007 ha condotto lo show Anche se, su Rai 3 la domenica sera in seconda serata. Nel 2010 partecipa alla mia casa piena di specchi con Sofia Loren dal 2011 interpreta il ruolo di Max Pelluso in un posto al sole nel 2011 e il detenuto babà nella fiction Cugino and Cugino nel 2016. Ospite nel Variety Show stasera tutto è possibile condotto da Amadeus e sbandati su Rai 2.